eccoci qua ho dovuto salve ragazzi sono io adriano scusate per l'interruzione ma ho avuto qualche problema tecnico e qui porto bustine di nuovo aperto di noi bustine dei predatoide della notte la collezione sbabam il mio motto è sconfiggi la notte più oscura qui ho trovato il leone e il coccodrillo bene andiamo avanti con questa non c'è da aspettarsi dal film di king kong il gorilla quindi king kong il gorilla il gorilla questa qui il lupo artico la musica che sto mettendo è angel of darkness quella che sentite in questo momento adesso andiamo a questa un doppione dell'anaconda un doppione dell'anaconda un doppione dell'anaconda un doppione dell'anaconda un doppione del lupo artico ben bene il pitone un doppione dell'anaconda alla prossima ragazzi finisce qui